Adesso vi do un indizio, ok? Col primo indizio magari non ci arrivate, ma col secondo sono sicura di sì. Allora, primo indizio è Kenny. Kenny, quello è che vuoi fare il video? Chi stiamo andando a conoscere? Quello che fa i libri di Veratuz. Bravo! Alessandro Ferugini! Stiamo andando a conoscere Alessandro Ferugini! Non è una foto, André. Allora, ascoltate bene. Stiamo andando a Milano, giusto? Con le Nike. Con le Nike, va bene. Il suo regalo di compleanno. Vediamo il tuo regalo di compleanno. Bellissima, bellissima. Ma vi devo fare una domanda, anzi, vi devo svelare un segreto. Stiamo andando a conoscere una persona. No, no, dai. Non mi hai detto solo che andavamo a Milano. Lo so, avevo detto solo che andavo a Milano. Ma in verità stiamo andando a conoscere una persona. Adesso vi do un indizio, ok? Col primo indizio magari non ci arrivate, ma col secondo sono sicura di sì. Allora, primo indizio è Kenny. Kenny, quello è che vuoi fare il video? Chi stiamo andando a conoscere? Quello che fa i libri di Veracruz. Bravo! Alessandro Ferugini! Stiamo andando a conoscere Alessandro Ferugini! Ma perché? Mi sono disminuita! C'è una cosa lì. Sì, c'è il firma copia, la Felprinelli di Milano. Mi voglio... Abbiamo portato lì. Certo! Sì, su! Siete contenti? Sì! Adesso questa persona pensare a lui, va tutto fake, va cosa dì? No, no, non lo sapevate davvero! È vero? Che figata! Sei contenta? Mi ha detto, andiamo a Milano con la Corra! Andiamo a Milano con la Corra, con la Mazzu, però... Ma la Mazzu la già lo sapeva. Allora, la Corra lo sapeva, la Mazzu no. Non so se gliel'ha già detto, o se proprio fa la sorpresa davanti alla libreria, non lo so. Per fargli la sorpresa come voi. No, no, e la seconda... No, il secondo indizio, se non ci arrivate, quando vi dicevo Kenny, il secondo indizio era Pera. E quindi mi dicevate. Però mi aspettavo che mi dicevate Alessandro Ferugini. Non quello, quello, quello dei nostri libri, quello, quello, quello. È bravissimo! Eh, lo so. Ciao! L'avevamo promesso! No, no, mi fa piacere tutto questo. Sappiate che la scorsa settimana avevo un raffiettore di influenza, non era Covid, quindi... Ma ho detto tutti insieme. Sono insieme. Sì, ora ha maggior ragione. Però è la mia, eh. Se guardate l'ultimo video che è uscito ieri, alla fine c'è il delitto messi contro l'onato. Si sente tantissimo che sopra freddato quando ho freddato. Infatti io ho fatto una battuta. Io ho fatto una battuta di Renzi che era Fred mi dice che sta male, ha l'influenza che ha incacarla. Quindi se mi dicevano qualcosa l'ho fatto a forza. Ragazzi me l'hanno levata a farciarlo anche voi. Vai, 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 vai. Facciate una foto. Fate una foto tutti insieme. Voi quattro. Sì, sono tutti amici. Sono tutti amici. Siamo tutti di biella. Tutti sbiellati qua. Scusa, eh. No, no, falla, 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 poi la facciamo. Grazie mille. Si apposta. Sì, sì, vai, vai. Io sto facendo un video. Un bel sorriso. Sì, non c'è, non c'è. Va che ve lo vedo. Venta, che c'è tanti amici. Forse Andrei non si vede. Ma il mio figlio non sa bene. Grazie, io sono, è una mamma influenza. Ci provo, dai. Scriviti a scuola. Però fai. Andrei, come ti chiami? faccio la foto qua fai la foto tu cosa ha fatto un figlio? Giorgia ma devi prendere anche l'altro libro brava brava esagerata esagerata da un botto da un botto quattro anni da un botto la fantasia ste mamme guarda che quando arriva nel lago ci mette in sicolo ma ve lo meritate che è un po' che vedo tramite la posta vostra guardo tutti i messaggi le storie pubblicate la canza lo vedo appena fai la... cioè lo rifai allora prendiamo tutti i messaggi adesso ci manca non mi manca nulla cosa hai già letto però? Gioca, Gioca e Gioca io mi chiamo Giorgia mi chiamo Giorgia Davide e Andrea e però vuole sapere quali erano i due Davide e ha detto... però... Gioca allora I Grazie per la visione!